io do il benvenuto ufficialmente a tutti gli intervenuti a questo incontro un incontro che a Gugia Refigna ha organizzato con clienti selezionati eh allo scopo di poter presentare eh la nuova tipologia di macinazione che a Gugia Refigna ha proposto e proporrà nei prossimi giorni inizierà la distribuzione ufficiale degli sfarinati nel mercato la linea che ha un nome che racconta un po' la storia di questo nuovo sistema di macinazione parliamo della linea mia mia che è l'acronimo di macinazione integrata autentica autentica perché è un prodotto una lavorazione che noi effettuiamo eh dopo aver registrato un brevetto che già nel duemiladiciannove è stato depositato da Gugia Refigna un brevetto che ha come oggetto vi dicevo questo nuovo sistema di macinazione che abbiamo definito macinazione integrata autentica io direi di partire il racconto di questa giornata spiegando che cosa significa integrare integrazione fra che cosa? Fra due sistemi di macinazione il primo quello tradizionale quello a pietra il secondo quello moderno quello attraverso il quale realizziamo tutte le nostre produzioni della linea cinque stagioni dalla doppio zero rinforzata alla doppio zero Manitoba e quindi tutte le miscele che è il sistema di macinazione a cilindri con i laminatoi integrate allo scopo di fare che cosa? Beh la nostra ricerca aveva un obiettivo ben preciso che è l'obiettivo che perseguiamo in tutte le nostre elaborazioni nel centro ricerca sviluppo quello di riuscire a offrire ai nostri clienti un qualcosa in più di quello che il mercato oggi è in grado di offrire e quindi che cosa abbiamo pensato di fare? Abbiamo pensato di andare a recuperare i vecchi sistemi di macinazione a pietra riconosciuti e ancora praticati da qualcuno in quanto sono capaci di offrire sapori e profumi tipici di questo sistema di macinazione e abbiamo pensato di integrarlo con quello a cilindri un' evoluzione del sistema di macinazione antico molto più tecnico tecnologico e capace di offrire costanza di qualità e salubrità ineguagliabili in realtà questo sistema di macinazione quindi questo questa macinazione che abbiamo definito integrata è una macinazione che ha un percorso ben preciso e l'introduzione alla linea mia deve partire proprio da questo deve partire da come maciniamo i grani facendo anche chiaramente un accenno a ciò che avviene prima della macinazione parliamo della selezione grani che noi andiamo a selezionare fra le migliori varietà disponibili in realtà con questo sistema di macinazione maciniamo diverse varietà di grano e questo perché lo vedrete successivamente proponiamo diverse tipologie di farine una selezione attenta una selezione che arriva fino al campo di produzione è una selezione che ci permette di poter ottenere i migliori risultati una selezione dei grani che quindi vengono igienizzati a dovere l'igienizzazione corrisponde a una setacciatura finalizzata alla separazione di tutto ciò che non è grano e che comunque si raccoglie sui campi da quello che invece a noi interessa è la granaglia sana genuina indispensabile per poter ottenere farine di alta qualità quindi una pulitura successivamente alla quale si passa a una fase che diciamo è fra le più fondamentali di questo nuovo sistema di macinazione la macinazione integrata che è una bagnatura del grano voi direte ma va sempre il grano si bagna prima di macinarlo a cilindri sì ma in questo caso noi vedremo che la macinazione integrata inizia con una macinazione a pietra e questa particolare bagnatura che ha una durata più breve rispetto a quelle che si fanno nella macinazione cilindri allo scopo di andare a inumidire la parte più esterna del chicco di frumento quella parte più esterna che in realtà è la parte del chicco di frumento dove ristagnano dove sono presenti tutti gli elementi che in realtà sono dannosi sia la salute dell'uomo sia la qualità della farina quindi le muffe quindi i batteri quindi ancora le micotossine questi cepi micotici che sono diciamo pericolosi per l'alimentazione umana e non ultimo anche la lignina quell'elemento presente nelle parti cruscali del chicco di frumento che produce nella farina quel sapore amaro eccessivamente forte che disturba la degustazione di chi consuma prodotti da macinazione di tipo integrale. Ora dopo questa leggera bagnatura dove dicevo si bagna solo lo strato più esterno qui in questo dopo questo passaggio andiamo a effettuare una procedura su una lavorazione sul grano che noi chiamiamo decorticazione. La decorticazione è una lavorazione che noi facciamo con lo scopo ben preciso di andare a eliminare la buccia più esterna quella buccia più esterna che inumidita a dovere e solo essa viene inumidita a dovere risulterà essere di più facile estrazione quindi di più facile eliminazione in questa apparecchiatura chiamata decorticatrice ma quale è capace di sbucciare effettivamente una sorta di grande grattugia a cilindro così come si fa per le patate nelle cucine dei ristoranti noi lo facciamo sul grano per eliminare la buccia esterna dei chicchi di frumento una macchina che quindi è capace di andare a eliminare solo quella parte del frumento che noi abbiamo ritenuto essere indispensabile eliminare con uno scopo che è quello di riuscire ad avere a disposizione un grano un chicco di frumento che mantiene esclusivamente le parti più importanti quindi il cuore del chicco l'endosperma la parte germinativa interna quella ricca di sapori profumi e di vitamine e i primi strati di crusca quelli che sono capaci di sdare aromaticità profumi e sapori al prodotto finale nonché ricchezza di fibre senza però portare con sé tutto ciò che è nella buccia più esterna il grano così decorticato quindi viene macinato a pietra è una macinazione a pietra con il sistema tradizionale si chiama di stile francese quindi mole circolari granitiche una mole in movimento l'altra ferma la mole in movimento con un foro al centro attraverso il quale si inserisce il grano che chiaramente andrà ad essere frantumato attraverso il passaggio fra le due mole la cui regolazione viene fatta in funzione delle diverse tipologie di grani che maciniamo la cui diciamo così capacità di frantumazione viene regolata sapientemente dal maestro mognaio il quale con la sua esperienza è capace di effettuare tutte quelle regolazioni del molino a pietra che devono essere fatte in funzione delle necessità che i diversi le diverse tipologie le diverse varietà di grano richiedono attraverso questa macinazione a pietra quindi otteniamo una farina macinata a pietra a tutto corpo sì ma privata esclusivamente delle parti che non fanno bene alla salute non fanno bene alla qualità del prodotto finale e rendono il prodotto finale a rischio di scarsa capacità di mantenimento quindi di shelf life le farine macinate a pietra a chico intero hanno una conservabilità molto breve ma soprattutto una macinazione fatta su un cricco di chicco decorticato che porta con sé esclusivamente le parti più aromatiche più dolci capaci di offrire una farina macinata a pietra ancora piena ricca di tutti i suoi sapori e profumi ma che non porta con sé il disturbo della lignina presente nella parte più esterna del chicco una farina macinata a pietra che quindi ha ancora solo un difetto della macinazione a pietra cioè quello di avere questa farina una granulometria non perfettamente omogenea questo è dovuto al fatto che la macinazione a pietra ha questa caratteristica cioè di far sì che la farina che si ottiene attraverso la macinazione a pietra non sia a granatura omogenea e quindi non sia capace di offrire quelle prestazioni in fase di impastamento in fase di lievitazione in fase di sviluppo di maglia glutinica che solo le farine macinate alla minatoi quindi con i sistemi moderni è capace di offrire quindi dopo questa macinazione a pietra attenta e regolata in funzione delle tipologie di grano avviene l'integrazione quindi si passa dal prodotto macinato a pietra al passaggio che noi diamo a questa farina macinata a pietra nel laminatoio un passaggio in laminatoio che ci permette di omogeneizzare la granulometria della farina e ci permette quindi di sviluppare tutte quelle caratteristiche tecniche e reologiche che sono figlie della macinazione a pietra un'integrazione che quindi prende il meglio della macinazione a pietra e della macinazione a cilindri la farina così ottenuta è una farina ad altissime prestazioni a granulometria calibrata una farina capace di shelf life quindi di conservabilità pari a quelle delle farine macinate a cilindri che quindi arrivano a 12 mesi una farina che non è a rischio di irracidimento in quanto abbiamo tolto le muffe abbiamo tolto i batteri e abbiamo eliminato quella parte del germe di grano che crea problemi e che quindi tende a far sviluppare l'inaccendimento della farina una farina che quindi è assolutamente di classe superiore ha il meglio della pietra e il meglio dei cilindri una farina che diciamo così con questo sistema di macinazione integrata abbiamo pensato di proporre nel mercato in diverse tipologie ora qui sul banco ne abbiamo esposte un sacco per ogni tipologia e qui sulla sinistra abbiamo vi mostriamo in anteprima questa sorta di tagliere che possiamo anche magari ingrandire un po' poi vedremo abbiamo posto diversi campioni delle farine da macinazione integrata poi vedremo hanno delle caratteristiche diverse hanno delle prestazioni diverse ma che per necessità noi andremo a vedere successivamente questo perché perché vogliamo anche mostrarvi come questa farina si comporta e abbiamo pensato di andare a effettuare in diretta una lavorazione per la produzione di un prodotto che è di quelli che di più oggi tira quindi andremo a vedere una lavorazione in diretta una lavorazione finalizzata a produrre l'impasto per pizza in pala alla romana ora visto e considerato che il miglior sistema per realizzare questa tipologia di prodotto finale è quello di andare a effettuare una lavorazione di tipologia indiretta con quindi la preparazione e l'utilizzo di una biga adesso andremo a vedere il dettaglio della ricetta io direi di cominciare prima di tutto mostrandovi come si prepara correttamente una biga Roberto civiello tecnico dimostratore un collega molto in gamba che si è offerto di darmi una mano per questa giornata sta andando a pesare una quantità di farina che per questa lavorazione se volete prendere nota è di due chili e sta utilizzando una farina che è la farina da macinazione integrata che ne abbiamo chiamato mia x come extra forte in realtà poi parleremo più dettagliatamente di questa farina intanto prendete nota di quello che stiamo facendo stiamo prendendo due chili di farina mia x x come extra elastica extra forte abbiamo pesato due chili di farina pesiamo il lievito il nostro lievito secco cinque stagioni ne pesiamo una quantità di ventotto grammi scusatemi quattordici grammi quindi sette grammi per ogni chilo e li mettiamo direttamente nell'acqua in questo caso in una quantità d'acqua che è di novecento grammi quarantacinque per cento del peso della farina sarà acqua quindi pesiamo i nostri novecento grammi d'acqua quattrocentocinquanta per ogni chilo e aggiungiamo solo in questo tipo di preparazione la biga il lievito secco direttamente nell'acqua usiamo una frusta per dissolvere bene il lievito nell'acqua bastano tre giri è già sufficiente e andiamo a mettere direttamente il lievito all'interno dell'acqua e il lievito all'interno dell'impastatrice questa è un'impastatrice a spirale a due velocità programmiamo la prima velocità a sette minuti adesso riassumiamo gli ingredienti della biga due chili di mia x novecento grammi d'acqua quattordici grammi di lievito lievito sciolto in acqua e aggiunto nell'impastatrice tempo di amalgama della biga a sette minuti vedremo successivamente quindi fra sette minuti che tipo di risultato dovremo avere allora manca circa un minuto come vedete dentro l'impastatrice c'è una massa non legata frastagliata e a pezzi in un minuto chiaramente non svilupperà glutine non ci sarà una sviluppa uno sviluppo di elasticità vedrete che la massa è frastagliata e così deve rimanere quindi frastagliata allora molte volte mi capita di trovarmi di fronte a dei clienti che lavorano la biga fino ad aver sviluppato quasi un impasto signori è un errore è un errore che non va affatto la biga deve essere grezza addirittura per chi avesse un' impastatrice dotata di retromarcia può essere amalgamata in retromarcia amalgamandola in retromarcia otterremo un risultato di una biga ancora più frastagliata il suo essere frastagliata è importante perché riusciamo a integrare dentro la massa molto ossigeno e lo sviluppo della fermentazione che noi cerchiamo nella biga è agevolato dalla presenza del ossigeno e quindi è importante ottenere un risultato di una massa frastagliata abbiamo terminato la lavorazione della biga sono passati sette minuti in realtà l'ho fermata sei minuti e mezzo perché era già pronta adesso togliamo la biga dall'impastatrice la mettiamo dentro un contenitore capace di contenere lo sviluppo che sarà circa del 45 50 per cento di volume quindi non mettetela in un contenitore pieno ma lasciate lo spazio lo sviluppo del volume questa biga dovrà fermentare per 16 ore a 17 gradi non oltre le 16 17 ore perché non deve inacidire troppo essendo questa una farina molto ricca di fibre è una farina tipo 1 da macinazione mista pietra cilindri ha un'alta reattività ai lieviti e quindi il risultato che dobbiamo ottenere è proprio questo lo vedete molto frastagliato è proprio a pezzi non ci deve essere farina ancora da assorbire ma il risultato deve essere precisamente questo noi abbiamo qui adesso in questo contenitore una biga che abbiamo preparato ieri nel tardo pomeriggio sera direi la biga quindi dopo lo sviluppo deve presentarsi in questo modo guardiamola qui è una biga che sotto ha creato della spugnatura sta esplodendo un profumo meraviglioso non è elastica è ancora dura rigida questo è il risultato che dobbiamo ottenere e andiamo a vedere come lavorare l'impasto allora riprendiamo quindi la biga in mano mettiamo la biga dentro l'impastatrice così com'è non occorre spezzettarla e andiamo a pesare e quindi andiamo ad aggiungere nell'impastatrice la stessa quantità di farina che abbiamo impiegato nella preparazione della biga quindi il 50% della farina la usiamo per la preparazione della biga il restante 50 nel totale la usiamo per l'impasto ora mentre nella biga abbiamo usato la mia x perché poi vi spiegherò bene che farina è come vedete nell'impasto usiamo una farina diversa sempre macinazione integrata sempre tipo 1 ma questa farina si chiama mia s s come scusate m scusatemi m come multipla m come media se volete è una farina che ha un po meno proteine della mia x aggiungiamo attenzione direttamente il sale all'interno dell'impastatrice 100 grammi di sale questa quantità può arrivare fino a 100 direi fino al 120 anche ma l'ideale quello che vi consigliamo noi è il 2,5% quindi 25 grammi a chilo sono quattro chili totali due nella biga e due nell'impasto 100 grammi di sale direttamente nell'impastatrice e andiamo a pesare due chili e 300 grammi di acqua anche in questo caso acqua refrigerata perché i due chili e tre perché in realtà dentro quell'impastatrice abbiamo quattro chili di farina e abbiamo già 900 grammi d'acqua che sono l'acqua che è l'acqua che abbiamo usato per creare la biga se voi sommate 900 grammi più due chili e tre andiamo a un totale di 3 chili e 400 grammi di acqua che sono pari all'ottanta per cento tre chili e duecento quindi che sono pari all'ottanta per cento di idratazione ok allora abbiamo messo in macchina la biga la farina il sale non abbiamo bisogno di nient'altro se non di andare a aggiungere l'acqua andiamo a impostare l'impastatrice con quattro minuti di prima velocità e undici minuti di seconda velocità andiamo a inserire quasi tutta l'acqua nell'impastatrice in un'unica soluzione velocemente ne lasciamo circa 300 350 grammi all'interno della caraffa questi 350 grammi che vedrete aggiungeremo solo quando l'impasto ha sviluppato plasticità elasticità e quindi una buona maglia glutinica perché quattro minuti di prima e undici di seconda perché in realtà abbiamo cercato di sfruttare la qualità che questo tipo di macinazione ci offre una qualità che si manifesta quando usiamo le farine da macinazione integrata sotto forma di facilità di sviluppo di glutine pur lavorando anche con impastatrici di basse prestazioni è possibile raggiungere eccellenti idratazioni ridurre i tempi di impastamento e quindi aggivolare il lavoro dell'impastatrice questo anche questo è macinazione integrata se guardiamo dentro l'impastatrice vediamo che in poco più di un minuto già tutta l'acqua è stata assorbita non c'è acqua sul fondo e quindi la massa sta cominciando a strutturarsi la biga si sta spezzando la farina che abbiamo aggiunto sta assorbendo l'acqua e vedrete che quando la biga si è spezzettata in tanti pezzi piccoli l'impasto comincerà a legare con dei tempi e con dei modi che per una farina da macinazione a pietra semplicemente sono impossibili ma la macinazione integrata quindi questo diciamo così sistema di macinazione che ha come secondo passaggio un passaggio nei cilindri di un laminatoio regolato sapietemente dal mognaio è capace di sviluppare una facilità di strutturazione della maglia glutinica che è impossibile per qualsiasi altro tipo di farina ora solo acqua dobbiamo aggiungere e quindi io direi in questi dieci minuti otto minuti che serviranno per lo sviluppo dell'impasto mantenendo l'immagine all'interno dell'impastatrice che vedete voi sul vostro schermo in alto a sinistra io direi di cominciare a comprendere quali sono le tipologie di farine che noi proponiamo nella macinazione integrata allora le tipologie di farine che noi produciamo sono fondamentalmente derivate dalla lavorazione di due differenti varietà di grano noi con la macinazione integrata maciniamo sia grani teneri sia grani duri quindi sia grani bianchi sia grani gialli dalla macinazione integrata quindi otteniamo sia semole e vedremo che tipo di semola riusciamo a ottenere sia diverse tipologie di farine di grano tenero davanti a noi vediamo sono disposti cinque sacchetti diversi questi sacchetti hanno più o meno la stessa grafica hanno però già un nome diverso riportato ed è scritto su un sacco di colore diverso io direi di partire da innanzitutto da queste tre farine le prime tre farine quindi le farine che si chiamano mia s verde la farina che si chiama mia m blu e la farina che si chiama mia x o rossa partiamo da un presupposto non hanno corrispondenza con i colori dei sacchi delle farine doppio zero cinque stagioni hanno diciamo così se vogliamo la stessa scala di forza verde blu rossa ma la rossa x non è come la rossa oro come forza la blu m non è come la doppio zero superiore cinque stagioni e la verde s non è come la doppio zero rinforzata cinque stagioni perché tutte e tre queste farine sono farine specificatamente lavorate da grani particolari e quindi scelti con la finalità di creare un assortimento che comprende quindi tre forze diverse ma non ha corrispondenza ripeto con la cinque stagioni mia s la farina macinazione integrata che abbiamo definito semplice semplice e diretta per tutte le lavorazioni dove i tempi di lievitazione non sono lunghi quindi pizza tonda anche pizza in teglia non pizza in pala alla romana ma lavorazioni dove si ha la necessità di usare farine che non contengono troppe proteine attenzione signori che la quantità di proteine contenute in questa farina verde mia s è molto più alta di quella contenuta nella doppio zero cinque stagioni qui il tenore proteico è circa del dodici ottanta quindi siamo quasi ai livelli della doppio zero superiore blu se vogliamo ma è una farina capace di altissimi assorbimenti d'acqua molto più alti della verde cinque stagioni una farina che è capace di dare consistenze croccanti ed è una farina che si presta quindi alla produzione e alle lavorazioni di tutti gli impasti di tipologia diretta o nei rinfreschi degli impasti di tipologia indiretta biga e polish una farina che dà un risultato di grande crocantezza comunque di volume importante ma soprattutto dà consistenze e masticabilità eccellenti una mia m chiamata anche multiple destensibile adatte a tutte le lavorazioni di medio e lunga lievitazione adatta agli impasti già ad altissima idratazione e a tutti quegli impasti dove richiesta una buona elasticità una farina adatta negli impasti diretti o indiretti di pizza classica a tempi di lievitazione in frigorifero che possono già arrivare anche a quattro cinque giorni una farina che ha come step ulteriore la mia x la extra forte la più forte delle tre farine tipo uno da macinazione integrata la mia x che adatta alla preparazione di bighe primi step del polish alla lavorazione di tutti quegli impasti dove è richiesta estrema elasticità altissimo assorbimento e una prestazione meccanica che nelle lavorazioni è indispensabile quindi una farina mia x come extra elastica ed estensibile io direi di fare un focus dentro l'impastatrice dove siamo arrivati a due minuti circa dal termine della lavorazione in questo caso andremo a prolungare la lavorazione fino al tempo necessario a fare che cosa cominciare a sentire quel suono che sviluppa un impasto quando la sua elasticità comincia a scaturire vedete che l'impasto si è già staccato dal fondo adesso possiamo cominciare a inserire l'acqua in eccesso quindi l'ultima parte d'acqua l'acqua aggiungiamo a piccole quantità più o meno un cucchiaio alla volta un cucchiaio perché perché è importante che noi andiamo a allungare la struttura della maglia glutinica e quindi a far sviluppare quella sorta di tessuto che è necessario avere all'interno dell'impasto per poter iper idratare la massa quindi man mano che aggiungiamo l'acqua aspettiamo che l'impasto si stacchi dal fondo aggiungiamo un altro po d'acqua come vedete la massa man mano che si idrata assorbe l'acqua più velocemente l'importante è aggiungere l'acqua con lo step successivo quando l'acqua del precedente è stata complessamente assorbita quindi non si aggiunge acqua su acqua ma si aggiunge acqua su un impasto che ha assorbito aggiungiamo altra acqua come vedete man mano che noi aggiungiamo acqua l'impasto si gonfia si pompa se vogliamo ed è velocissimo ad assorbirla l'acqua che abbiamo appena aggiunto se guardate nel fondo della macchina è già stata assorbita possiamo già aggiungerne altra se avete un'impastatrice con la base molto larga aggiungete possibilmente l'acqua sull'impasto e non sul fondo della macchina ma con questa tipologia di farina vedrete che l'assorbimento e l'assorbimento d'acqua importante risulterà estremamente facile come vedete la massa ha già assorbito questa aggiungiamo ancora acqua allora l'impasto è finito fermiamo la macchina prendiamo il nostro contenitore dove andremo a inserire l'impasto un contenitore con coperchio che ungiamo con dell'ottimo extravergine d'oliva e olio che spalmiamo bene su tutta la sua superficie in modo tale da avere l'effetto staccante che cerchiamo andiamo a togliere l'impasto eseguendo quella che si chiama mozzatura quindi a tocchi tiriamo spezziamo e mettiamo nel contenitore tiriamo mozziamo e mettiamo nel contenitore guardate con che facilità si toglie questo impasto dall'impastatrice e la struttura di questo impasto che è estremamente tenace ma estensibile e pensate che io non sto utilizzando acqua nella mano ma malgrado ciò l'impastatrice sta rimanendo perfettamente pulita e siamo a un'idratazione dell'ottanta per cento questo è importante questa è quella che noi definiamo la qualità della farina come vedete la massa è perfettamente elastica adesso andiamo a eseguire quella che è la piega la piega che noi facciamo in questo modo semplice guardate riportiamo un lembo sull'altro da una parte la stessa operazione nella direzione opposta eseguiamo l'ultima piega al termine della quale rovesciata la massa abbiamo creato una sorta di micro sfogliatura buona per lo sviluppo di una perfetta volatura bolla a dimensione elevata la massa così preparata è pronta quindi copriamo il contenitore per iniziare quello che è il riposo che ci porterà a una crescita di volume di circa il venti per cento crescita di volume raggiunta la quale possiamo andare a spezzare e formare le pagnotte vedremo come spezzare come fermare le pagnotte lo faremo in diretta lo faremo in diretta e come in diretta andremo a fare anche la stesura delle pagnotte che noi abbiamo preparato circa quattro ore fa questo per poter dimostrare in due ore sia la lavorazione della diga sia la lavorazione dell'impasto sia la formatura delle pagnotte e per ultimo la stesura nonché la cottura delle pale romane allora visto che abbiamo terminato la lavorazione dell'impasto possiamo riprendere la presentazione delle farine una presentazione che mi aveva fatto raccontarvi le prime tre farine mia s semplice mia m estensibile mia x extra elastica la verde la blu e la rossa che sono tre farine di tipo 1 che cosa vuol dire farina di tipo 1 voi lo sapete già non vi sto dicendo niente di nuovo ma preferirei se è possibile fare un piccolo focus su questo tagliere dove abbiamo posto nella parte centrale una farina doppio zero che vedete è perfettamente candida da questa parte abbiamo sistemato come vedete una farina che se riusciamo a ingandire un po l'immagine ha un fondo chiaro ma è più puntata questa farina con un fondo chiaro e più puntata è la farina di tipo 1 che noi abbiamo in tre varietà mia s mia m e mia x hanno tutte e tre lo stesso colore perché sono tutte e tre tipo 1 ma hanno come vi ho spiegato una forza diversa un tenore proteico che va da 12 80 a circa 14 per cento un tenore proteico che è tradotto in spiccioli in w è comunque al di sopra del 280 290 per la mia s passa per i 340 della mia m e arriva a 380 per la mia x quindi un assortimento di tre farine tipo 1 che vi dicevo insieme può coprire tutte le necessità della pizzeria vedete la differenza fra la tipo doppio zero che è bianca e la tipo 1 appena più sotto abbiamo la quarta farina della linea mia che si chiama mia gra che questa qui sotto vedete che più puntata delle farine tipo 1 mia s mia m e mia x perché una farina tipo 2 e mia gra significa mia da grani antichi voi già conoscevate una farina la farina da grani antichi della linea a gugiare figna questo proprio è mia gra mia gra è la grani antichi a gugiare figna che era nel sacco verde ed è la prima farina prodotta da macinazione integrata voi sapete che il lancio di questa farina è stato fatto nel 2019 ed è proprio nel 2019 che noi abbiamo registrato questo nuovo sistema di macinazione dove la prima farina prodotta è stata proprio la mia gra che è una farina di tipo 2 all'altissimo tenore di fibra prodotta dalla lavorazione di quattro tipologie di grano antico coltivato nel nord Italia fra l'Emilia e la Lombardia che in realtà rappresentano un po' l'altissima qualità dei grani teneri antichi italiani una miscela di nostra ricetta capace di garantire profumi e sapori che solo i grani antichi sono in grado di offrire quattro tipologie di grano capaci di offrire una farina ad altissimo sapore altissimo profumo che però se vogliamo ha un limite a livello di prestazioni questo perché i grani antichi hanno un basso tenore proteico e il basso tenore proteico si traduce in un impasto che non ha un'elevatissima elasticità anzi ha un'elasticità modesta e ha anche una modesta capacità di resistere alle lievitazioni quindi una farina che da sola può essere utilizzata in lavorazioni con tempi di lievitazione abbastanza brevi in giornata regalando però qualità profumi una gradevolezza e un'armonia che solo i grani antichi antichi macinati con una macinazione di tipo 2 possono raccontare l'ultimo sacco è questo sacco con le scritte gialle il giallo già ricorda che cosa ricorda il grano duro il grano duro che viene coltivato in sicilia che viene coltivato in puglia è una delle perle dei grani italiani rappresentati nel mondo come la qualità più eccellente è quindi uno sfarinato tenuto da grano duro è una semola di grano duro da macinazione integrata è una semola rimacinata quindi con una granulometria adatta ad essere usata negli impasti lievitati non per la pasta per i maccheroni o per gli spaghetti è adatta per i lievitati ma ha una particolarità cioè quella di essere una semola rimacinata di grano duro di tipo integrale integrale che cosa vuol dire molto ricca di fibre e io tornerei su questa su questo tagliere per mostrarvi che cosa per mostrarvi questo questa parte del tagliere che come vedete a qui sopra una semola rimacinata vedete che è dorata candida assolutamente priva di qualsiasi punto di crusca qui sotto invece abbiamo proprio la mia 6 che come vedete è sempre gialla ma ha un tenore di crusca altissimo perché è una semola rimacinata di tipo integrale e come tale porta sapori profumi molto determinanti ma attenzione bene proviene sempre da macinazione integrata quindi la buccia più esterna del grano duro viene eliminata e questo fa sì che questa semola integrale sia ricchissima di sapore ma priva di quegli elementi che producono l'amaro in bocca la lignina e che disturbano la percezione dei sapori che soprattutto nella preparazione di impasti da pizza deve essere garantita un impasto da pizza non deve essere mai di sapore tanto forte da disturbare la percezione dei sapori degli ingredienti di guarnitura del pomodoro della mozzarella sicuramente ma anche di tutti gli altri ingredienti che con così tanta abilità e sabienza voi io dico noi pizzaioli esperti siamo in grado di combinare per regalare emozioni ai clienti una semola rimacinata che come per le semole rimacinate classiche ha delle caratteristiche che la rendono adatta ad essere miscelata alle farine bianche nel mondo della pizza quindi in questo caso l'assortimento di farina della linea mia rappresenta una sorta di tavolozza dei colori per voi che siete i pittori voi siete gli artisti che combinano questi elementi per costruire il proprio impasto per costruire un prodotto capace di rappresentare il proprio ideale di equilibrio di sapori e profumi dove però è importante parliamo esclusivamente di farine semi integrali o integrali infatti parliamo di tre farine tipo uno una farina tipo due e una semola rimacinata integrale quindi a favore di quello che il mercato oggi tira con caratteristiche che troviamo solo nelle farine di altissima qualità bianche quindi lavorabilità delle farine bianche qualità delle macinate a pietra prestazioni di assorbimento impossibili per qualsiasi altro tipo di farina ma docilità e soprattutto resistenza degli impasti che si manifesta sotto forma di pagnottine che resistono per molto più tempo alla lievitazione che però hanno una facilissima estensibilità una farina che offre delle prestazioni eccellenti e capace di creare un risultato che a me piace raccontare se posso e se non vi dispiace trasferendovi quella che è l'esperienza che ho vissuto con il lavoro che ho fatto con e per questa nuova per questa nuova linea di farine un lavoro che mi ha portato a testare in laboratorio i primi campioni prodotti e quindi partecipare attivamente all'evoluzione di questa gamma di farine dove c'è la mano di tutto lo staff ricerca e sviluppo del gruppo gusare figna del dottor figna dottore gusaro di silvia todesco di roberto di antonio in panificazione ma anche mia chiaramente un lavoro che per me è stato sconvolgente al punto in cui un pomeriggio mi sono ritrovato a dover preparare un impasto per una festa di amici e chiaramente gli amici non erano professionisti della pizza gli amici erano semplici potenziali clienti di una pizzeria e quando si è trattato di pensare che tipo di impasto fare non ho pensato nemmeno per un istante di utilizzare farine tradizionali ma immediatamente in me è scattato il desiderio di utilizzare una farina alla macinazione integrata questo mi ha fatto capire che l'evoluzione nella messa a punto del sistema di macinazione e nella messa a punto delle tipologie di farine della gamma mia era arrivata all'arrivo mi ha offerto la sicurezza la consapevolezza di aver raggiunto un risultato che i professionisti saranno e sono in grado di percepire nell'immediato fatto di che cosa di un aiuto nella gestione dei problemi della pizzeria impasti più resistenti impasti più veloci da realizzare impasti che resistono meglio quindi la lievitazione un aiuto nel raggiungimento di una qualità che ricordi che si ricordi e quindi non qualcosa che il cliente memorizzi come qualità fatta di che cosa di profumi e di sapori intensi ma mai invasivi mai di disturbo non c'è niente di peggio che mangiare una pizza fatta con farine macinate a pietra dove l'impasto ha più sapore delle guarnizioni non facciamo pane facciamo pizza e la pizza racconta anche gli ingredienti aggiunti questo offre mia l'equilibrio nei sapori nei profumi ma ha fatto anche di piccole prestazioni che queste farine danno sapete che a volte capita che i clienti delle pizzerie si avvicinino al forno e buttino gli occhi nei cassetti delle palline cassetti delle palline che spesso se si utilizzano farine da macinazioni classiche magari di tipologia integrale o addirittura da macinazione integrata da macinazione pietra sono a fondo grigio hanno rilasciato acqua hanno degli aspetti che sono tutt'altro che rassicuranti per il cliente aspetto che è importante poter dimostrare e rappresentare la qualità del prodotto questo perché le farine fatte da macinazione integrata hanno una ridotta ossidazione perché abbiamo eliminato la pelle più esterna abbiamo eliminato quella parte che contiene anche quei metalli che disturbano poi la conservabilità del prodotto una linea di farine che da sola è in grado di soddisfare tutte le necessità del mondo della pizza abbiamo preparato questi impasti diretti venerdì scorso oggi siamo mercoledì allora che impasti abbiamo preparato venerdì vuol dire sabato domenica lunedì martedì mercoledì siamo al quinto giorno di vita abbiamo preparato tre impasti adesso ve li mostriamo allora il primo impasto è questo va bene così questo è il primo impasto è un impasto preparato con la mia S quindi solo farina tipo 1 il secondo è un impasto preparato con tipo 1 e il 25% di mia 6 è estremamente bello da vedere ha un profumo travolgente ma vedrete ha una plasticità e ha una risposta in forno che è meravigliosa il terzo impasto preparato è questo quello con la mia grà è un impasto che ha tenuto un po' meno al volume siamo al quinto giorno ma dove la mia grà è stata aggiunta al 25% quindi tre diverse soluzioni per tre diversi risultati andiamo indietro con lo zoom così facciamole vedere le tre differenze tipologie di impasti 1 2 e 3 vedete il primo sopra più scuro con la mia grà il secondo medio con la mia 6 il terzo semplicemente con la mia m quindi un tipo 1 ah non lo vedevo ok abbiamo un impasto sempre diciamo con la tipo 1 senza nessuna aggiunta il secondo aggiunta con il 25% di mia grà il terzo con il 25% di mia 6 sono tutti e tre impasti eccellenti e vedremo come si comportano ripeto cinque giorni di vita in nessuno di questi impasti signori noi abbiamo aggiunto olio attenzione che questo non è una scelta dettata da una necessità di queste farine ma siccome stiamo parlando semplicemente di farina non volevamo che il risultato fosse condizionato dall'utilizzo dell'olio che vi consiglio sempre dover essere se lo aggiungete aggiungetelo di elevata qualità un vero extra vergine di oliva eventualmente se diciamo per motivi vostri non volete aggiungere questa eccellenza di aroma potete usare anche un olio di semi ma di girasole ad alto elevato ad elevato tenore di acidi oleico le quantità di olio chiaramente le potete scegliere voi questa è una tavolozza che deve essere usata da voi per la vostra idea di pizza in questi impasti comunque non abbiamo aggiunto olio e neanche nell'impasto da palla romana l'abbiamo aggiunto è chiaro che l'olio è un elemento migliorante ma lavorando con queste farine non dimenticatevi che di aromi e di profumi ce ne sono veramente tanti e giocando con le cinque tipologie potete veramente contro costruire infinite combinazioni di sapori e di profumi ottenendo di sicuro sempre grande masticabilità e un volume che adesso andremo a vedere essere secondo il nostro punto di vista pur essendo transit passati cinque giorni un volume decisamente importante allora noi abbiamo utilizzato la mia m quindi la media la multipla ma avremmo potuto utilizzare anche la mia x o avremmo potuto utilizzare la mia s è chiaro che la farina la scegliamo in funzione dei tempi di lievitazione noi abbiamo lavorato con la media semplicemente per non diciamo così eh scegliere fra le tre farine uno di base né la più forte né quella con proteine un po' più basse che è la mia s abbiamo scelto la media ma avremmo potuto lavorare tranquillamente con la s o con la x siete e voi a scegliere lo scegliete in funzione del tempo che avete a disposizione per la lievitazione delle palline considerate che pur lavorando con la m siamo a cinque giorni e quindi pensate dove possiamo arrivare con la x o comunque dove si può arrivare tranquillamente con la s andiamo a vedere quale sarà è questa il risultato che si ottiene quando dopo la formazione delle pagnotte che adesso andremo a realizzare faremo anche lievitare le pagnotte per la pala romana queste sono pagnotte da cinquecentocinquanta cinquecentocinquanta grammi ve le mostro subito eccole qui queste sono quattro pagnotte da cinquecentocinquanta grammi messe in un cassetto sessanta per quaranta altezza undici pagnotte che hanno triplicato il volume ma prima di arrivare qui io direi di andare a vedere come si spezza e come si formano le pagnotte per la pala romana Roberto sta cospargendo sui cassetti dove mettiamo le pagnotte a lievitare una manciata di spolvero quello che stiamo usando è uno spolvero è uno spolvero particolare vi facciamo vedere vedete che molto bianco non è riso è uno spolvero che presto arriverà nel mercato a marchio cinque stagioni ottenuto da un'estrazione di mais bianco è un prodotto che si ottiene in una lavorazione particolare operata su mais bianco ed è uno spolvero che ha un sapore neutro ha una granatura spigolosa molto asciutto non fa polvere ed ha un risultato di una crosta ruvida e croccante quindi stiamo usando questo spolvero abbiamo il cosparso dello spolvero sulla all'interno della cassetta adesso andiamo a vedere come spezziamo ci spostiamo con l'immagine qui sulla zona pesatura come andiamo a spezzare le pagnotte di pasta allora maniunte pizzichiamo mozziamo a modo di mozzarella l'impasto e lo mettiamo a pesare direttamente dentro il contenitore dove abbiamo mettiamolo staccante facendo la tara zero quindi andiamo a pesare la pasta direttamente sullo spolvero per far sì che poi il pezzo di pasta lo appoggiamo al tavolo e non si appiccica un pezzo Roberto è anche troppo bravo perché i pesi riesce sempre a imbroccarli stiamo facendo pagnotte da ecco 5 50 600 vedete spezziamo il pezzo lo mettiamo nel contenitore l'eccesso lo togliamo li mettiamo nella cassa 3 le sta prendendo come fossero dei fagotti una sorta di caramella vedremo che poi faremo la chiusura caramella esistono diversi sistemi per formare la pagnotta si può piegare a portafoglio facendo la doppia piega si può piegare a caramella è un po' una scelta che si può decidere di fare in un modo o in un altro ma che deve avere comunque come risultato la formatura di un pezzo di pasta che mettiamo sul tavolo e che adesso andremo a vedere a cui dobbiamo dare corda la chiusura la facciamo eccoci qua andiamo a farla vedere da vicino un po' se riusciamo eccoci qua la chiusura la facciamo prendendo 5 lembi 6 lembi di pasta dall'esterno la chiudiamo a modo di fagottino la pizzichiamo incrociando la pizzicatura e diamo un pizzico di corda a formare un salsicciotto di pasta omogeneo bello teso come vedete risponde elasticamente alla mano e lo mettiamo all'interno del cassettino 3 e 4 dopo aver effettuato la chiusura la pagnotta inizia il suo periodo di riposo che dura vi ripeto dalle due alle quattro ore il tempo sufficiente a raggiungere un volume che quello vi ho mostrato prima cioè la pagnotta quando è lievitata dovrà avere precisamente questo volume so che vi sembrerà impossibile ma il peso è precisamente quello allora abbiamo le nostre pagnotte ben cresciute andiamo a cospargere un po' di spolvero di mais nuovo spolvero gluten fricci in queste zone che presto arriverà nel mercato sopra le pagnotte stacchiamo la pagnotta dal bordo del cassetto dividiamo le pagnotte una dall'altra quindi un po' di spolvero lo mettiamo fra le pagnotte dividiamo quindi anche le pagnotte e quindi andiamo a fare che cosa andiamo a preparare il tavolo dove stendere le pagnotte con un po' di spolvero uno spolvero di qualità si manifesta di qualità anche perché ne basta poco per diciamo così avere le funzioni di staccante rovesciamo la cassa sul tavolo come vedete le pagnotte si staccano facilmente dalla cassa sono ben divise una dall'altra un po' di spolvero sopra la pagnotta e andiamo a vedere come stendere la pala ora una pasta realizzata con una farina da qualità risulterà essere molto più facile da stendere e quindi vedrete che con pochi pochissimi movimenti la pagnotta verrà ad essere stesa con un risultato d'eccellenza abbiamo fatto un passaggio e guardate possiamo già togliere la pala dal tavolo e disporla sulla pala la pala è una pala da 60 ragazzi quindi pensate a che sensibilità sta manifestando questo impasto allora in questo caso andiamo a prendere la nostra pala e la inforniamo nel forno che abbiamo regolato è un forno elettrico regolato a 280 gradi con cielo al 70 per cento della sua potenza e platea al 30 per cento abbiamo steso la seconda come vedete l'estensibilità è massima lo spolvero lavora in un modo eccellente cosa dici roberto la pala è piena come vedete è assolutamente piena mettiamo la seconda pizza in forno la terza allora un'estensibilità che è figlia di una farina con prestazioni meccaniche che sono assoluta eccellenza un'estensibilità che è figlia di una lavorazione estremamente semplice un impasto che avete visto abbiamo lavorato in un modo elementare aggiunto direttamente sulla sulla massa sulla biga la farina il sale e quasi tutta l'acqua ma vi dirò che potevamo anche aggiungere già tutta l'acqua fino all'inizio l'impasto avrebbe legato comunque è un impasto che abbiamo lavorato per un tempo che chiaramente se non avete un'impastatrice a due velocità sarà un po più lungo una singola velocità è comunque sufficiente ottenere un grande risultato per ogni minuto di seconda se ne devono fare due di prima noi abbiamo lavorato per 11 minuti in seconda velocità se avessimo avuto solo la prima avremmo dovuto lavorare non 11 minuti di seconda ma 22 di prima che aggiunti ai 4 fanno 26 quindi solo una velocità si arriva a lavorare l'impasto 25 26 minuti il sistema è lo stesso l'aggiunta viene fatta più lentamente perché la lavorazione è diluita in un tempo più lungo andiamo a vedere che cosa riusciamo a tenere in cottura una cottura che può essere fatta anche in un forno a gas a camera chiusa può anche essere fatta eventualmente per chi non lo avesse in un forno a legna ma con fuoco spento e a bassa temperatura perché il primo tempo di cottura in questo caso parlo di prima cottura perché le cotture sono due una prima cottura senza guarnitura e una seconda cottura con la guarnitura due cotture sono necessarie perché i tempi necessari per far evaporare l'acqua dell'impasto sono più lunghi e per non bruciare la guarnitura siamo molto più utile eseguire una prima cottura che fa sviluppare volume e creare una crosta con qualche punto di colore dopo una prima cottura dopo la quale il le pizze vedrete dovranno essere messo a riposo o su rete o su legno vivo questo per poter far svaporare l'umidità in eccesso in un modo semplice ed efficace una prima cottura dopo la quale la base così precotta può essere o fatta raffreddare a temperatura ambiente per essere utilizzata in qualche ora o abbattuta all'interno di un abbattitore fino a temperatura di refrigerazione più due più tre per essere utilizzata in due tre giorni oppure ancora una prima cottura che può essere abbattuta a temperatura di refrigerazione e quindi abbattuta a temperature di surgelazione temperature negative surgelata quindi per poter essere mantenuta dentro bustoni in plastica e quindi conservata a bassa temperatura utilizzabile quindi per diversi mesi questo sistema vantaggioso per chi vuole lavorare gli impasti solo alcuni giorni a settimana ma avere a disposizione delle base precotte surgelate che possono essere tolte dal surgelatore direttamente dopo la richiesta del cliente e surgelate possono essere aggiunte degli ingredienti di guarnitura e ripassate al forno fino a aver terminato la cottura offrendo sabori profumi ma soprattutto consistenze eccellenti consistenze che sono ancora più eccellenti soprattutto quando viene eseguita bene la prima cottura e la svaporatura della prima cottura durante la seconda cottura fondamentalmente andiamo a dare solo colore e crocantezza allora andiamo a vedere togliamo dal forno le nostre precotture sono passati circa 5 minuti e andiamo a vedere che cosa il forno ci ha regalato come risultato eccoci qua la prima la seconda le disponiamo sul nostro tavolato e sulla nostra rete come vedete la prima cottura è una cottura che ci permette di raggiungere qualche punto di colore qualche punto di colore non dobbiamo far caramellizzare troppo la pasta perché se è troppo caramellizzata poi purtroppo la seconda cottura deve durare poco tempo e addirittura la mozzarella può anche non fondere una prima cottura che però ci permette di sviluppare volume e un minimo di consistenza nella crosta parliamo solo di farina tipo 1 signori e parliamo di 550 grammi per 55 cm per 25-30 cm quasi quindi una palla molto stesa molto molto stesa prime cotture che devono riposare a temperatura ambiente finché si sono raffreddate che poi andremo a terminare per mostrarvi il reale risultato di una cottura completa nel frattempo io direi di far vedere come si comportano i tre impasti che abbiamo preparato per la pizza tonda a cinque giorni di distanza dall'impasto con un impasto di tipo diretto la prima pizza che andiamo a stendere è una pizza fatta con l'impasto di mia M più mia gra grani antichi avete visto abbiamo tolto la pagnotta dal cassetto e adesso l'abbiamo messa nel nostro spolvero e andiamo a stenderla è un impasto fatto attenzione con una farina della mia M che non è la più forte aggiunta della mia gra che sicuramente è una farina basso tenore proteico quindi è quello che di più complicato abbiamo da utilizzare vedete che però ha un'estensibilità che io definirei favolosa la pizza è pronta, già stesa andiamo solo a rifinire un po' il bordo e adesso andiamo a aggiungere l'ingrediente che non voglio che condizioni il risultato che è semplicemente un po' di buona polpa di pomodoro una buona polpa di pomodoro dove abbiamo aggiunto solo lo 0,6% di sale dove io di mio ma non lo dovrei dire pubblicamente aggiungerei solo un grandissimo extravergine d'oliva ad alta qualità adesso andiamo a mettere nel forno e andiamo a vedere che cosa questa pizza è in grado di offrire noi qui abbiamo un forno che è un forno da pizza napoletana è un forno che è nato per fare cottura da pizza napoletana e quindi noi possiamo utilizzare con temperature che sono chiaramente delle temperature più alte non rende il meglio alle temperature basse noi stiamo lavorando oltre 400 gradi voi direte la pizza si brucia no, vedrete che non si brucia questo grazie all'impasto che è un impasto fatto con delle grandi farine un impasto che adesso vedete andremo a schiacciare nell'abbinamento Mia M più Mia 6 semola integrale di grano duro da macinazione integrata guardate che elasticità che ha dopo 5 giorni sono 5 giorni signori eh non 2, 5 giorni stendiamo la nostra pizza ci aggiungiamo la nostra polpa di pomodoro guardate l'abbiamo tolto circa 3 ore fa ok circa 3 ore fa ma lo potremmo lavorare anche fra 3 ore perché rimane così com'è e questo è un effetto della macinazione integrata allora guardate questa è la mia grana 400 quanti gradi? 450? il forno è a 450 gradi è il modo più facile per uccidere una pallina ma malgrado ciò come avete visto l'impasto si è alzato e adesso vi mostriamo che volume ha regalato questa pallina fatta con mia M grani antichi a 5 giorni impasto diretto qui abbiamo usato un'idratazione del 60 64% questa è mia M più mia gra adesso vi mostro il risultato di mia M più mia 6 la semola integrale di grano duro qui è più alta ok siamo al 68% guardate lo metto in parte alla mia gra per ultimo andiamo a vedere la mia M da sola allora io per riuscire a farvi vedere di che risultato si parla guardate il bordo parliamo di risultato di altezza assolutamente notevole questo è un impasto che ha 5 giorni di maturazione malgrado ciò la spinta è assolutamente importante andiamo a vedere l'ultima la mia M che ancora qualche istante sarà cotta e poi andiamo a terminare la cottura delle pale l'idratazione deve essere sempre adatta soddisfare le vostre di necessità io non credo che più acqua si aggiunga all'impasto più si sia bravi io credo che la quantità d'acqua deve essere la quantità giusta per le vostre necessità ma dipende dal forno dipende da quante pizze stendete insieme quante ne guarnite da quante pizze il forno sono tantissime le variabili quindi perché dire ah tanta acqua non è sempre vero guardate questo è lo sviluppo della mia M da sola riuscite a vederlo? anche qui parliamo di una altezza molto notevole è una pizza col bordo ben sviluppato ok? questo ha tutto favore di quello che è la vostra ricerca poi la scelta della farina è chiaro che se voi volete più volume andate a scegliere farine più proteiche ma malgrado ciò pur utilizzando in aggiunta la mia S o meglio la mia 6 e la mia Gra il risultato di grande volume sarà comunque e sempre garantito ora andiamo a vedere come risulterà essere il risultato al termine della cottura di una pizza in pala alla romana quindi rimettiamo in forno la precottura ho usato le mani chiaramente non è più calda quindi lo possiamo fare tranquillamente e andiamo a raggiungere il colore finale per vedere poi che volume è in grado di sviluppare una pala romana fatta con biga mia X impasto mia M biga a 16 ore impasto lasciato lievitare praticamente 20 minuti in massa mezz'ora in massa formate le pagnotte e 3 ore circa 2 ore e mezza 3 ore di lievitazione a temperatura ambiente e vedremo poi il risultato ottenuto allora la seconda cottura può essere fatta anche a 280 ma per chi ha un forno a temperatura di 320 gradi può essere terminata tranquillamente a 320 gradi noi chiaramente avevamo una camera a 280 quello che vedete alle mie spalle è un forno da pane e arriva fino a 280 gradi di più non va lavoriamo a questa temperatura ma mentre la prima cottura a 280 è perfetta la seconda cottura sarebbe meglio farla a una temperatura un po' più alta che noi non abbiamo non va bene 450 e quindi ripassiamo con un attimo di pazienza in più il prodotto nel forno a temperatura di 280 gradi mentre la prima cottura va fatta con una platea un po' più alta e il cielo a 70% con la platea intorno a circa 30 la seconda cottura la potete fare anche con regolazioni diverse perché la seconda cottura non è una vera cottura è solo un dale colore e quindi la potrei mettere potenzialmente anche in un forno a legna va bene ci posso prendere fare una prima cottura in forno elettrico una seconda cottura finirla in forno a legna la togliamo dal forno comunque chiaramente il colore se il forno è un po' più alto sarà più ben definito ancora togliamo la precottura dal forno appoggiala pure lì e andiamo a vedere che tipo di risultato ci offre questo tipo di pizza pratichiamo qualche taglio il croccante c'è il suono è buono e andiamo a vedere il risultato che offre questa lavorazione dopodiché se voi riuscite a fare meglio noi siamo pronti a copiarvi per fare meglio anche noi eccoci qua questo è il risultato della pizza in pala alla romana e questo è il risultato con un impasto diretto a cinque giorni di lievitazione direi assolutamente un risultato notevole notevole ma che non è all'altezza di quello che voi con la vostra capacità con le vostre ricette e con la vostra arte sarete in grado di fare e dico questo perché noi non siamo qua a insegnare a fare la pizza noi possiamo permetterci di dire che possiamo insegnare a fare la farina ma mentre il nostro mestiere è creare materia prima la vostra arte è quella di trasformarla in delizie per il palato dei clienti e quello che vi consiglio è semplicemente di prendere spunto da quello che diciamo ma dovrete essere voi a raccontarci come da queste farine che prepariamo con tanto amore e tanta attenzione voi siete in grado di ottenere delizie insuperabili la nostra promessa è che saremo al vostro fianco nella messa a punta dei prodotti un essere al vostro fianco che ci sarà reso ancora più facile se così come avete fatto sarete iscritti al portale Pizza Story e tanto più voi avrete bisogno del nostro aiuto tanto di più noi ve ne offriremo grazie alla disponibilità di ricette di consigli di soluzioni a tutti i vostri problemi e soprattutto grazie a quella che è sempre stata la nostra arma più efficace cioè la voglia di imparare da voi come offrirvi il meglio come offrirvi delle materie prime sempre eccellenti e sempre capaci di aiutarvi a offrire ai vostri clienti quanto di meglio è possibile io Roberto e la regia che ha lavorato in un modo meraviglioso per noi vi salutiamo e vi auguriamo di riuscire a riprendere il lavoro così come l'abbiamo lasciato poco più di un anno fa con grandi numeri con grande tranquillità e con grandi risultati questo è il mio augurio di cuore perché la vostra felicità è anche la nostra serenità grazie a tutti